Signore e signori, ho e ho la svedesina, ho al maggiore svegliere, ho e ho la svedesina, ho e ho la svedesina, ho la svedesina, ho i svedesina, il è duro mettersi a tavola pensando poi di dover fare i conti con la bilancia niente pasta niente dolci niente vino ma soprattutto niente pane il pane così buono e al tempo stesso così nocivo per la tua linea visto d'altra parte che senso ha una vita senza pane hai provato con le fette biscottate le fette biscottate bianconi non ingrassano ne puoi mangiare quanto ne vuoi fette biscottate bianconi così naturale profumate e il carattino l'annuncio l'annuncio pubblicitario bianconi le tette biscottate